buongiorno buongiorno e benvenuti in un nuovo video pulizie questa volta abbastanza sbrigativo rispetto alle altre volte starà più breve sarà più conciso però spero di altrettanta motivazione quando frattempo una carrellata di come era messa la situazione in casa ma vabbè non è mai perfetta non è mai come dovrebbe essere ma se così non fosse non ci sarebbe neanche bisogno di questi video giusto giustissimo quindi iniziamo con la giusta carica e cerchiamo di risolvere un po' questo questa confusione che c'è in giro e inizieremo dalla camera da letto vado a cambiare le lenzuola perché era il weekend quindi bisognava fare un bel bel change qui e poi vado a mettere su quelle nuove le lenzuola vecchie vecchie quelle che sto cambiando le vado poi a lavare e io le lenzuola le lavo sempre con detersivo in polvere un goccino di igienizzante in più un goccio di ammorbidente programma cotoni 40 gradi anche 60 dato che sono bianche però so che tanti hanno paura delle alte temperature quindi 40 va già bene iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.